Con le commemorazioni delle vittime di Cutro, della professoressa Gabriella Fabrocini e del giovane giornalista Giuseppe Sbrescia, recentemente scomparso, si è aperta la seduta odierna del Consiglio Comunale di Napoli. Al centro della Sise Cittadina la difficile situazione del trasporto pubblico, ma anche la presenza di troppi cantieri in città, per non parlare poi della metropolitana a Singhiozzo. È stata poi la volta degli articoli 37, duro l'intervento del consigliere Nino Simeone che ha attaccato le municipalità e i loro presidenti. Rei a suo dire di non essere capaci di amministrare i quartieri della città. Il perché lo dovremmo chiedere alle municipalità, lo dovremmo chiedere ai presidenti, agli assessori che paghiamo, non lo fanno a gratis e che preferiscono farsi i selfie. Io queste cose le verificherò. Ho chiesto già gli atti che prontamente trasferirò agli enti competenti di indirizzo e controllo perché non se ne può più. Io non riesco a capire perché si mettono dei fondi a disposizione e riusciamo a fare dei progetti importanti. L'assessorato, non io, perché voglio dire io non faccio altro che fare delle verifiche in commissione. E nello stesso momento succede che dalle municipalità, che dovrebbero essere le sentinelle, i controlli, le attività di controllo, non vengono effettuate. Io mi domando e dico che cosa fanno questi signori nelle municipalità. Io me lo sto chiedendo da mesi. Intanto in queste ore, finiti i collaudi del secondo treno della linea metropolitana di Napoli, a breve sarà presentata una relazione che permetterà in breve tempo di mettere in moto i nuovi vagoni. Il sindaco Manfredi auspica in breve tempo l'ultima azione dei lavori delle prossime stazioni di municipio e linea 6. Il nostro obiettivo è che prima dell'estate di aprire tutta l'area di piazza municipio, compresa la zona portuale, quindi quella dovrebbe essere tutta completata, e nell'anno aprire anche le due stazioni, quindi sia del centro direzionale sia di Palazzo di Giustizia. Dal 15 marzo la città di Napoli sarà interessata invece da un'importante opera di bonifica e pulizia del territorio, ad annunciarlo l'assessore Santagada, che ha presentato l'iniziativa quartiere pulito. Si tratta di un intervento straordinario di pulizia nelle strade quartiere per quartiere tra le 8 e le 12 della mattina, secondo un calendario prestabilito. L'assessore chiede la massima collaborazione dei cittadini per ripulire strade e marciapiedi con l'ausilio dei nuovi mezzi di spazzamento. Per fare questo intervento è necessaria una sinergia innanzitutto con le municipalità, ma soprattutto con i cittadini nel collaborare alla rimozione delle macchine solo per qualche ora per far sì che questi mezzi possano garantire, possono riportare un maggior decoro all'interno di tutte le strade, sia primarie che secondarie.